Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della Sua Madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro San Giuseppe, i Vangeli non riportano neppure una Tua parola. Tu sei fotografato come l'uomo che tasce perché ascolta. Oggi non sappiamo più ascoltare. Ottienici l'umiltà vera e sincera per ascoltare Gesù che ci parla, per ascoltare coloro che ci parlano e aspettano da noi una buona parola. Caro San Giuseppe, tu hai cercato Gesù per tre giorni nelle vie di Gerusalemme. Immaginiamo la Tua ansia, il Tuo desiderio vivissimo di ritrovare Gesù. Anche noi spesso sbarriamo Gesù per incoerenza, per poca fede. Aiutaci a cercarlo sempre perché soltanto Gesù dà senso pieno alla vita e pace vera al nostro cuore. San Giuseppe prega per noi. Meditiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci fa rivivere l'emozione del giorno di Pasqua. Ci fa risentire la voce dell'angelo che dice alle donne, ma perché cercate tra i morti quello che è vivo? Gesù è risorto questa notizia attraverso i secoli e arriva fino a noi e ci assicura che il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Quanto dobbiamo riempire il cuore di gioia, rifornimento di gioia ogni volta che pensiamo alla Pasqua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma libresi dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ave o Gesù. Perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato. È sempre con noi, ogni giorno. L'ha detto lui. Ma è nascosto. Perché vuole che noi rendiamo visibile la sua bontà, la sua umiltà, la sua misericordia. È talmente presente che, poco tempo dopo la Pasqua, Gesù è sulla via di Damasco e aspetta Saulo, che aveva nel cuore l'odio per i cristiani, per i discepoli di Gesù. E Gesù gli va incontro dicendo, Saulo, ma perché mi perseguiti? E Saulo cambia e diventa un apostolo. E Gesù continua il suo cammino per le strade del mondo. Padre nostro. Se ne c'è, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo discende sugli Apostoli in preghiera con Maria nel Cenacolo e mette nel loro cuore forza e entusiasmo per annunciare Gesù, per dire a tutti che non c'è altro nome dato agli uomini nel quale possono essere salvati. Oggi è Pentecoste anche per noi. E noi dobbiamo ogni giorno uscire missionari per le strade del mondo. Il Vangelo è stato consegnato a noi. Vieni, Spirito Santo. Vieni e vinci ogni paura dentro di noi. Rendici felici di credere, felici di sperare, felici di amare. Metti entusiasmo nella nostra vita, mitezza e sernità nel nostro cuore. Vieni, Spirito Santo. Rendici un cuore solo, un'anima sola, affinché il mondo creda che Gesù è il Figlio di Dio. Vieni, Spirito Santo. Maria è qui con noi. Ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Discendi su di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'Assunzione in cielo di Maria. Si compiono in Maria perfettamente le parole del suo Magnificat. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili e nessuno è stato umile come Maria. Padre nostro. Che il Cielo sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, che è la meta della nostra vita, dove Maria ci aspetta per introdurci alla grande festa dei Santi, l'unica vera festa. Santa Teresa di Lisie. Mentre la malattia la stava consumando, morì giovanissima, 24 anni. Spesso, con il pensiero, andava al Paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò, io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. E a un missionario lontano, scrisse, dal cielo, le sarò più utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del Paradiso. Il Paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto, in cielo, Maria continua ad essere madre e vive veramente una maternità particolarissima verso ciascuno di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma libaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le amme, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dallaci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Preghiamo, supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana. E tutti gli spiriti maligni che si agirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli, figli di erano. A te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Madre del buon consiglio, 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 prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del santo rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Avviché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica e vi riempia il cuore di tanta pace e gli occhi di tanta luce, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. È il mese di Maria. Portate a tutti la gioia di Maria. Andate in pace. Preghiamo, grazie. Preghiamo, grazie. Preghiamo, grazie. Preghiamo, grazie. Preghiamo, grazie. Regina del Cielo Regina del Cielo Regina del Cielo